Non poteva mancare la presentazione del Cadimare Calcio versione 2022-23 nel contesto della festa dell'acciuga ripiena nel Borgo Kadamoto. La atmosfera registratasi per l'occasione incoraggia all'ottimismo, tanto più che la squadra bianconera, che si affaccia alla nuova annata molto rinnovata nonché ringiovanita, ha avviato nel migliore dei modi la Coppa Italia di categoria battendo al Pieroni per 2-0 un Marola Quasanta pur non malvagio. Dunque Presidente, si suol dire basta che c'è sto mare, basta che c'è sto sole anche se già sta calando, ma forse non è tutto qui, potrebbe esserci anche chissà che cadimare oltre a tutto questo quest'anno, o no? Ma guarda, se ti devo dire la verità, stiamo costruendo una squadra abbastanza competitiva, diciamo, con le risorse che abbiamo, con la pandemia, che bisogna stare attenti magari a quello che si spende, diciamo che stiamo costruendo una squadra che secondo me ci dà qualche soddisfazione. Abbiamo una soddisfazione quella di avere tre giovani di Cadimare e abbiamo rinforzato quello che riguarda i dirigenti. Abbiamo asserito qualche personaggio anche del posto sperando che ci diano una mano e per affrontare, diciamo, una stagione senza problemi.